Secondo voi per il vostro futuro quali vantaggi dalla nascita degli Stati Uniti d'Europa e quali ostacoli? Come si possono superare? Secondo me l'Unione Europea è molto importante perché attraverso questa gli Stati possono collaborare e unirsi insieme anche per aiutare questa influenza di migrazione di persone che scappano dalla guerra e quindi possiamo aiutarci tutti insieme, però potrebbe anche essere un ostacolo perché ad esempio adesso con la chiusura delle frontiere, ad esempio con il muro che si sta creando in Austria, l'Unione Europea è come se stesse scomparendo e è come se non esistesse più. Secondo me per il futuro di noi giovani l'Europa può dare molto perché è un'unione di culture e di tradizioni che possono aiutare sia lo sviluppo culturale che economico del nostro paese e sarebbe un'ottima opportunità andare all'estero per poter imparare anche altre lingue e contribuire al progresso del nostro paese. L'Europa è un paese dove sono tutti uniti però ultimamente non troppo e dovrebbe cercare di unirsi il più possibile. Credo che comunque un'unione di tutti gli stati europei possa portare a una maggiore stabilità, cosa che adesso manca secondo me e soprattutto con i recenti problemi anche dati secondo me dall'immigrazione, un'unione di qualcosa di più forte potrebbe aiutare l'Italia a uscire da questo periodo un po' strano dove tutti ci riprendono per gli immigrati e tutti mettono i muri però quindi alla fine... E per voi giovani? Per noi giovani sicuramente si apre un mare di possibilità a mio parere anche musicalmente parlando perché si sa che la scuola italiana è comunque una delle più rinomate al mondo e la musica è nata in Italia e quindi esportarla all'estero o comunque far conoscere la nostra musica, i nostri talenti sepolti diciamo o comunque oppressi dalla poca possibilità che c'è oggi della musica è un grande vantaggio a mio parere. Grazie